Svolte questa mattina a Firenze, come sapete, la mattina della Pasqua fiorentina ha due momenti, uno un po' più laico, lo scoppio del carro, il sorteggio del calcio storico, l'altro naturalmente molto più religioso con la messa in cattedrale. Partiamo proprio da qui, da questa prima parte e vediamo come si è comportata la Colombina. Un volo perfetto. Anche quest'anno la Colombina pasquale non ha deluso i fiorentini. Partita dall'altare della cattedrale, la Colombina ha raggiunto il carro di fuoco, detto Brindellone, posizionato tra Duomo e Battistero e poi è tornata indietro senza alcun intoppo. La tradizione racconta che se riesce a rientrare è segno di speranza e di buoni raccolti e così è stato. Circa 5.000 le persone presenti in piazza Duomo per una manifestazione tra il sacro e il profano che si tramanda da secoli. La sua origine viene infatti fatta risalire alla prima crociata e in particolare al ritorno da Gerusalemme del capitano fiorentino Pazzino De Pazzi che portò con sé tre scaglie di pietra del Santo Sepolcro. Le tre pietre venivano usate per attrarne una scintilla di fuoco novello distribuito alle famiglie fiorentine, dopo la benedizione, per riaccendere il fuocolare domestico. Oggi la Colombina è il congegno trasportato da un razzo innescato dal Cero Santo, accensione ad opera del Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze all'interno della cattedrale, che incendia il carro, o meglio i petardi e i fuochi pirotecnici di cui è corredato. La parte più laica della cerimonia pasquale, seguita dalla messa solenne in cattedrale, prevedeva anche il sorteggio per l'abbinamento delle partite del torneo del calcio storico fiorentino. La prima semifinale vedrà sfidarsi i verdi contro gli azzurri, la seconda i rossi contro i bianchi. Per esigenze legate alle elezioni comunali che si svolgeranno l'8 giugno con eventuale ballottaggio il 23, le semifinali si giocheranno l'1 e 2 giugno, mentre la finale sarà il 15 e non, come di consueto, il 24, giorno della festa di San Giovanni, patrono di Firenze. L'anno scorso a vincere il torneo furono i rossi. E tra l'altro il sindaco Nardella questa mattina ha ricordato che già da tempo lo scoppio del carro vuole che sia inserito tra quelli che sono gli elementi del patrimonio dell'UNESCO, il patrimonio immateriale, così si dice. Dicevamo però che la mattinata appunto ha visto anche una seconda parte naturalmente molto più religiosa con la messa in cattedrale ufficiata dal cardinale in quella che è stata probabilmente la sua ultima messa pasquale. Si attende infatti a giorni il nome del suo sostituto. Vediamo però i molti argomenti di attualità che ha toccato Betori. Le guerre dividono i popoli, a cominciare dall'aggressione di cui è vittima il popolo ucraino e dal conflitto che oppone nella Terra Santa i due popoli che traggono origine dallo stesso padre, Abramo, e non ci si dica che saranno le guerre a portare la pace quando è invece solo l'aspirazione e l'impegno per la pace a poter porre fine alle guerre. Questo il monito dell'arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, nella messa seguita allo scoppio del carro durante la quale ha invitato con queste parole a ribaltare la logica del dominio in quella dell'amore e del perdono. Non è stato il solo riferimento all'attualità fatto da Betori in quella che è stata la sua ultima omelia pasquale. Il cardinale ha da tempo passato il limite dei 75 anni e di età e dopo alcuni rinvii si attende a giorni il nome del suo successore. Betori stamani ha invitato a salvaguardare la centralità della persona umana a fronte degli sviluppi che il mondo digitale ci sta prospettando nella consapevolezza, ha aggiunto, che l'intelligenza artificiale non sarà mai un'intelligenza umana. Se gli algoritmi prenderanno il sopravvento sulla possibilità di scelta, ha aggiunto, a soffrirne saranno anzitutto i più poveri. Per Betori è anche preoccupante la constatazione di come il rapporto tra l'uomo e la natura vada riequilibrato se non si vuole passivamente assistere all'estinzione dell'uno e dell'altra. E preoccupa, ha aggiunto il cardinale, il futuro di una società in cui cala inesorabilmente il tasso di natalità. La famiglia viene dimenticata da parametri socio-economici individualisti. La casa è un bene per molti inaccessibile, specie per i più giovani, e il calo dei residenti rende di fatto impossibile dare forma a un tessuto sociale davvero umano. Il lavoro è segnato da incertezza, eppure non garantito nella salvaguardia della vita. La situazione delle carceri continua, non sta a cuore a chi avrebbe il dovere di farne luoghi non di pena, ma di redenzione. L'orientamento in questo mondo di contraddizioni è, nell'ottica religiosa esplicitata dal cardinale, quella di Cristo. Una luce, ha concluso, che non può esaurirsi in uno scoppio, tantomeno di un carro, ma necessita di continuità operosa, esige di risplendere in ogni nostro agire quotidiano. Passiamo alla cronaca. Vi devo dare purtroppo conto di un incidente mortale avvenuto oggi in Toscana, alle 14.30, in provincia di Arezzo, tra Badia Alpino e Tegoleto. Un uomo di 47 anni è morto in un incidente avvenuto in Via delle Casce. Da quanto ricostruito la vittima, un italiano residente nella zona era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Le due ruote sono rimaste bloccate sulla strada, mentre l'uomo è finito contro un palo dell'illuminazione ed è deceduto. Da chiarire ancora le cause per le quali il motociclista ha perso il controllo del suo mezzo. Secondo quanto ricostruito, al momento del transito non ci sarebbero stati altri veicoli lungo la strada. Un altro incidente è avvenuto invece in provincia di Pisa, intorno a mezzogiorno e mezzo. Coinvolti sono stati una bambina di tre anni, la madre incinta e il padre. Si è trattato di un frontale, loro tre viaggiavano su una delle due auto che si sono scontrate e sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. Parliamo adesso delle carceri di Sollicciano in particolare perché c'è stata un'ispezione da parte del Ministero. Vediamo. Sarà presto sul tavolo del capodipartimento dell'amministrazione penitenziaria la relazione che gli ispettori ministeriali hanno condotto per tre giorni a Sollicciano. E da quanto anticipato dal Corriere Fiorentino non sarà una relazione tenera. I tecnici hanno esaminato ogni aspetto del carcere, fra i più problematici e grandi d'Italia. Le infiltrazioni di acqua sono ancora presenti nonostante gli infissi recentemente cambiati grazie a un finanziamento della regione e piove all'interno delle celle che spesso si allagano. Lo scorso novembre le piogge torrenziali hanno richiesto lo sfollamento del reparto maschile. La direzione del carcere aveva dichiarato inagibili le celle più danneggiate chiedendo di ridurre la popolazione carceraria di 100 unità. Un'interrogazione parlamentare sulla questione è stata annunciata dal deputato PD Federico Gianassi. Sollicciano va dismesso e abbattuto, sollecitava giorni fa il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, dando voce a una richiesta che arriva da più parti e da anni. Anche il sindaco Nardella è di questo avviso, ma non la direzione penitenziaria. Su Sollicciano si continuano a spendere soldi per ristrutturazioni straordinarie quando questa struttura andrebbe soltanto demolita e invece la posizione di Eleuterio Grieco, segretario generale Wilpa, polizia penitenziaria. La politica deve capire che questa è l'unica strada. Tra ristrutturazioni e tentativi di ammodernamento, negli ultimi anni sono stati spesi per Sollicciano circa 11 milioni di euro. Il Centro funzionale meteo della protezione civile regionale della Toscana ha aggiornato il quadro delle situazioni di criticità, indicando codice giallo per rischio vento dalle 15 a mezzanotte di domani, lunedì 1 aprile, per rischio mareggiate anche dalle 18 sempre alla mezzanotte di domani. Interessate tutte le province tranne quella di Arezzo. E proprio pochi minuti fa, all'allerta vento e mareggiate, la protezione civile regionale ha emesso anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico, dalla mezzanotte di oggi alle 2 di domani. È quanto appunto spiega una nota diffusa nel pomeriggio. Lo ricordavamo, allerta gialla per vento forte invece su Toscana Centrale, Arcipelago e Alto Mugello, per mareggiate su costa nord e centrale. Andiamo adesso a Livorno. Come altre località costiere, è in attesa dei risarcimenti per ripristinare il lungomare che è stato duramente provato dalle mareggiate dei giorni scorsi. Vediamo. I danni causati dalle mareggiate che hanno colpito la costa, con onde alte anche 4 metri, non sono ancora stati riparati. In parte il comune di Livorno è corso ai ripari ed è intervenuto, come alla terrazza Mascagni, ma di lavori da fare ce ne sono molti. Possiamo dire che siamo in attesa, siamo in un'attesa però non passiva, nel senso che il comune e l'amministrazione comunale nel proprio bilancio ha destinato oltre un milione di euro per gli interventi in somma urgenza, che sono o stati fatti o in fase di realizzazione. Mi viene in mente la terrazza Mascagni piuttosto che la zona dell'Accademia e poi andremo nella parte di Antignano dietro, nel corrispondenza dei cedimenti che ci sono stati sulla passeggiata. E questi sono soldi dell'amministrazione comunale in somma urgenza. Per il resto, ovvero per i fondi che devono arrivare dal governo, al momento tutto tace. Farete richieste ulteriori per avere questi fondi? Noi le richieste le facciamo attraverso il lavoro della regione toscana e la regione toscana sta già ricordando che serve attenzione sulla Toscana. I fondi del governo serverebbero anche per affrontare meglio il disagio abitativo. Vediamo perché. 1,7 miliardi a tanto ammontano, secondo l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, i fondi necessari a ridurre il disagio abitativo delle famiglie toscane in povertà assoluta. In generale, il quadro della situazione abitativa in Toscana presenta, spiega l'IRPET, una buona stabilità, con il 72% delle famiglie che abita in case di proprietà, ma il fenomeno degli affitti brevi, comune a molte zone della regione, non solo in quelle con intensi flussi turistici, fa sì che la Toscana abbia una maggiore esposizione potenziale al disagio abitativo. Lo certificano i numeri. Nel 2022 sono state 45 mila le famiglie a beneficiare di alloggi popolari, molte meno dei 124 mila nuclei che ne avrebbero avuto bisogno, la maggior parte a Firenze. Quasi la metà di questi, 53 mila, sono in stato di povertà assoluta. Se il quadro in base agli alloggi, assegnati e richiesti è preoccupante, lo è ancora di più la statistica del reddito. In base a dati regionali, le famiglie con ISEE inferiore a 16.500 euro, il limite per chiedere un alloggio ERP, sono 300 mila, quelle in povertà assoluta 92 mila. I quasi 2 miliardi calcolati dall'IRPET permetterebbero di aiutare a pagare l'affitto chi ha un ISEE ancora più basso. Se qualche stanziamento da regioni e comuni per gli alloggi ERP c'è stato, la cancellazione da parte del governo del contributo affitto ha peggiorato la situazione. Torna a Prato, tipo il festival del turismo industriale, per raccontare le eccellenze del tessile pratese. Torna a Prato, la seconda edizione di Tipo Festival, l'evento dedicato al turismo industriale, che racconta la storia, la cultura, la tradizione e la contemporaneità dell'eccellenza tessile pratese. Tanti gli eventi in programma dal 6 al 14 aprile, sparsi tra la città laniera, Monte Murlo e la Val di Bisenzio. Oltre agli itinerari di turismo industriale, che toccheranno realtà particolari come il Macrolotto Zero e un tour che riguarda appunto la commistione fra teatri e industrie, i tour si svolgeranno il sabato e la domenica, il 13 e il 14 aprile, e saranno arricchiti entrambi da delle chicche particolari. Per esempio il 13, sabato 13, alla fine del tour, ci sarà anche un opening di un'installazione molto particolare, a cura di ipercollettivo, all'interno dell'anonima Calamai. Oltre ai tour ovviamente ci sono tutta una serie di spettacoli nelle fabbriche come nella migliore tradizione di tipo. Un festival che si consolida anno dopo anno, facendo conoscere Prato a un pubblico nazionale, puntando sul turismo esperienziale. Con una varietà di appuntamenti davvero estesa, perché avremo mostre, presentazione di libri, laboratori per bambini, naturalmente tour, spettacoli dentro le aziende e anche convegni, quindi un modo per dare centralità e valore a questo nostro progetto e contemporaneamente valorizzare in generale Prato come città del tessile, che ha una vocazione anche turistica, che fa parlare di sé a livello regionale e nazionale. Il tempo non è un gran che, ma è pur sempre primavera. Chiudiamo allora con un po' di fiori. Tulipani, Narcisi e Giacinti è il campo fiorito del progetto Wonder and Peak, che prevede nell'area fiorentina cinque giardini. Il primo a sbocciare è quello a Calenzano, nuovo all'iniziativa, che si trova nell'area verde di Via del Molino, dove sono stati messi a dimora 30.000 bulbi di tulipani e narcisi di 60 varietà diverse. Eventi, laboratori, musica, teatro, merende, sono molte le iniziative che ruoteranno intorno al giardino, al quale si potrà accedere, con un contributo volontario che andrà a favore dell'associazione che ha ideato il progetto Le Tribù della Terra. Chi lo desidera può anche cogliere i tulipani con un contributo di un euro a stelo. L'iniziativa vuole diffondere la bellezza dei giardini, valorizzando aree pubbliche e luoghi storici. E a proposito di storia, l'ideatrice del progetto ricorda che i tulipani non sono solo olandesi. È dappertutto, perché è una pianta facile, tra l'altro viene dall'Anatolia, viene dalla Persa, viene da posti antichissimi, lontanissimi, con climi diversi, però ha tecchito in Olanda. Quindi poi c'è una tradizione, proprio toscana, diciamo fiorentina, che sarebbe ben visibile al Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano, dove appunto i giardini Medici erano pieni di tulipani. Mi fermo qui, ma non prima di avervi ricordato che questa sera su Toscana TV c'è un grande classico del cinema pasquale. Quo Vadis, restate con noi. Grazie.